Mancano davvero pochi giorni da gennaio, infatti termina il mercato tutelato del gas, esclusi i clienti vulnerabili, sentiamo i consigli di Feder Consumatori. Finora nel mercato tutelato le tariffe sulle bollette luce gas sono state determinate da giornate periodicamente da Rera sulla base del prezzo di mercato. Nel mercato libero invece gli utenti potranno scegliere liberamente gli operatori disponibili a derogare offerte differenti tra loro. In quest'ottica sarà possibile optare per un sistema di tariffe fisse o variabili. Non avere fretta perché non viene staccato il gas, soprattutto verificare nei siti deputati di Rera che portare offerte e lì inserendo tutta una serie di dati compariranno tutte le offerte in vigore nella zona. Il mercato tutelato non cesserà di esistere del tutto, rimarrà infatti attivo per i soggetti vulnerabili. Tutti coloro che hanno compiuto 75 anni d'età, poi tutti coloro che percepiscono i bonus gas, quindi il bonus energia, coloro che hanno la 104, l'intestatario dell'utenza che ha la 104, coloro che vivono in zone soggette a calamità naturale e le isole non interconnesse. Chi non avrà scelto entro gennaio un fornitore del mercato libero entrerà automaticamente a far parte di un regime transitorio nominato servizio a tutele graduali predisposto ad Rera. Continueranno con lo stesso venditore che quello che forniva la tutela con tariffe leggermente più care. La fine del mercato tutelato dell'energia elettrica è stata invece rinviata al 1 luglio 2024.